we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia mamma mia ragazzi nel video di oggi vedrete davvero delle cose super super interessanti ieri è uscito il penultimo teaser ufficiale il numero due ragazzi sappiamo che ce ne saranno tre perché la season inizia domani indicativamente verso mezzogiorno la una insomma il downtime dei server non dovrebbe essere dopo le 10 del mattino io ve lo ricordo sarò in live per vivere insieme a voi tutto quanto ma nel video di oggi ragazzi parliamo di alcune cose relative alla stagione numero 9 tra cui forse non lo sapete il primo trailer scritto ufficiale sì perché sul sito di epic games ovviamente non pubblico è già presente qualche riga relativa alla season 9 ve la farò leggere e vedrete un pochettino ci sono le nuove città non dico più altro non dico più altro nuovo bundle ragazzi nuovo bundle in arrivo non sappiamo quando ormai probabilmente nella prossima season dove finalmente torna la skin quella che avevamo pensato fosse stata modificata con l'iconic vi spiegherò e vi farò vedere e anche ragazzi se avrò tempo voglio ricordarvi che esiste un modo per ottenere il pass battaglia in maniera gratuita nella season numero 9 voglio però ringraziare prima tutti quelli che utilizzano nello shop il mio codice creator xioderone grazie grazie di cuore ragazzi per crederci mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto se la trovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima però la domandina ve la devo ve la devo fare ragazzi la domandina è nostalgica è una domandina nostalgica guardate col cuore ragazzi ma lo rivolresti boschetto bisunto nella season numero 9 mi vien da piangere a vederlo non ce la faccio troppi ricordi troppi ricordi io sì sì lo rivolgo raga rivolgo una city corposa in game dai ho bisogno di avere una city non quella cagatina che poi può essere bella quanto vuoi il quartiere quella cagatina delle spiagge voglio una city mi hanno distrutto commercio mi hanno distrutto pinnacoli porcomondoli portatemi grisi groove per favore fatemi sapere ragazzi sotto qua se anche voi rivolrete li vorrete oppure no boschetto bisunto ma quindi ciancio alle bande e bando alle cianci andiamo subito a dare un'occhiata molto molto rapidamente al teaser numero 2 lo avete visto tutti lo abbiamo visto tutti e ovviamente la prima cosa che ci salta all'occhio è la lettera e insieme ad una nuova skin molto probabilmente del pass battaglia raga non mi stanno facendo impazzire raga non mi fanno impazzire le skin che ho visto non non lo so non mi fanno dire la madonna non 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 lo so ragazzi però sappiamo che la descrizione di questo teaser diceva il futuro è luminoso ieri se non ricordo male diceva il futuro il futuro è tenebroso o comunque una roba del genere e ovviamente si può notare che c'è un qualcosa di futuristico in questa skin o comunque di molto molto moderno potrebbe essere magari quella di ieri la parte malvagia delle skin quindi la fazione malvagia e questa essendo anche luminoso la parte invece buona se ovviamente diamo un'occhiata ecco qua appunto il teaser dell'altro ieri si vede molto chiaramente che non è proprio una faccia amichevole quella di questa skin ma la cosa interessante è che se ovviamente avviciniamo entrambi i teaser si può notare come le due lettere ovviamente vadano a formare la parola ne ovviamente la grande domanda che tutta la community si sta ponendo è adesso che parola vanno a formare e soprattutto le lettere che abbiamo visto vanno lette in ordine allora ragazzi vi faccio vedere delle cose ufficiali per partendo dal tweet di donald mustard oramai sapete chi è ragazzi il capoccione di epic games scrive nel tweet ufficiale ne quindi sappiamo che le lettere vanno lette in ordine di uscita sappiamo che sono tre ma dopo poco twitta anche from the ashes dalle ceneri quindi vi dico subito la cosa vuol dire qualcosa che rivivrà verrà ricostruita ritornerà dalle ceneri e ovviamente la prima domanda la prima come dire associazione che ci viene in mente è pinnacoli pendenti e corso commercio che sono proprio state distrutte guarda caso da qualcosa che ha lasciato ceneri bruciature ancora addirittura la lava ovviamente parlo delle rocce infuocate del vulcano le parole che in realtà sono prese in considerazione dalla community sono due la prima new quindi domani potrebbe arrivare una w oggi potrebbe arrivare una w e new vorrebbe dire nuovo potremmo anche associarlo al futuro e tutto il resto ma guardando un secondo ancora ragazzi le due skin che sono comunque abbastanza futuristiche la parola potrebbe anche essere neo neo vorrebbe dire near earth object oggetto nuovo vicino alla terra che in questo caso sarebbe la nostra mappa quindi potrebbe anche essere magari un pianeta una cosa non lo sappiamo secondo me sarà new però ragazzi sempre meglio tenere tutte le ipotesi plausibili ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua incredibile qualcuno è riuscito a fotografare non chiedetemi da dove arriva questa immagine perché io sinceramente non ne ho idea adesso non so se sia tipo uno shop di qualche console potrebbe essere la playstation o l'xbox sinceramente non ne ho davvero idea ma questa è sicuramente una fotografia ad uno schermo quindi qualcosa di vero e come si nota c'è scritto fortnite all nighter bundle quindi nuovo bundle con punti esperienza e 500 v bucks adesso io dico quel logo dei punti esperienza a me sembra un po di salva al mondo ho giocato pochissimo a save the world ma mi fa venire in mente salva al mondo non è che magari è un bundle dedicato a save the world che sarebbe la prima volta se mi concedete perché io non mi ricordo di averne visti altri esclusivi solo per i giocatori di salva il mondo ma potrebbe anche essere anche se lo escludo assolutamente che arrivi oggi o domani quindi un blocco di punti esperienza per livellare con 500 v bucks e una nuova skin skin presente tra l'altro nel database da davvero mesi mesi e mesi io non lo so ragazzi ma sai epic games ci ha abituato alle scoperte più incredibili ma andiamo avanti e qua casca l'asino ragazzi questa è una parte della pagina di una delle pagine nascoste ovviamente nel sito ufficiale di epic games dove si legge new future quindi new potrebbe essere la parola ufficialmente e la descrizione dice mi sposto che la leggo bene anche io la stagione 9 arriva con una grande nuova mappa mani avanti attenzione scopri tre nuove moderne città come military mansion roasted row e molto altro quindi già sappiamo due nomi cosa c'è di nuovo nel battle pass addirittura dicono che ci sarà un jet sky quindi una moto d'acqua che è possibile utilizzare per muoversi nell'acqua potremmo modificare il nostro battle bus potremmo modificare anche la posa della vittoria reale l'animazione e molto molto altro con tante novità anche per la modalità creativa ragazzi è incredibile e prima di chiudere il video voglio solo ricordarvi che a parte questa immagine che è meravigliosa potrebbe essere ragazzi un'immagine di pinnacoli pendenti futuristica ma non voglio sbilanciarmi quindi guardatela così è buona voglio solo ricordarvi che è presente nei codici di gioco questa stringa di codice quindi gift battle pass convincete un vostro amico o trovate il modo per farvi regalare il pass battaglia in modo da ottenerlo gratuitamente sembra che sia una delle nuove funzioni avrebbe anche molto senso presenti in questa nuova season beh ragazzi io per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale grazie a tutti